Torna ad affrontare la questione Uncem, il consigliere regionale Giovanni Donzelli ed è una questione che lui affronta da tre anni ormai. Dal 2013, ma non è la questione Uncem, è la questione delle truffe fatte con i finanziamenti pubblici da parte di Uncem. Noi dal 2013 chiediamo di poter accedere ai bilanci perché abbiamo visto delle spese folli, ricordo 500 euro al giorno in viaggi di rappresentanza, oggi una persona va una settimana a Charme Shake, invece a Uncem si spendono in un giorno 500 euro. Da tempo non avevamo anche segnalazioni da parte di dipendenti e ex dipendenti che non venivano pagati regolarmente alcuni contributi, abbiamo fatto delle interrogazioni, la regione toscana ci aveva tranquillizzata, invece purtroppo siamo in possesso di alcuni documenti gravi. Una persona che ha smesso di lavorare a rinuncio mi è arrivata a chiedere l'indenità di disoccupazione e l'Inps gli ha scritto che non la poteva avere perché non erano stati pagati i contributi richiesti in modo regolare. A quel punto la persona è andata a chiedere all'Inps, lo statino, tutto l'elenco e tutti i contributi versati e ha scoperto, qui noi abbiamo i documenti dell'Inps, quindi non è Giovanni Donzelli che dice certe cose, che Uncem ha fatto degli illeciti penali perché non solo non ha versati i contributi che aspettava Uncem a versare, ma non ha nemmeno versati i contributi che ha trattenuto al dipendente. Questo è un illecito penale come scrive l'Inps che è stato svolto dal 2011 al 2014. Questo è il caso di un dipendente, ma i dipendenti coinvolti sono stati probabilmente molti di più. Questo ha avuto il coraggio di denunciarlo, di venire a dirlo a me e di dirlo all'Inps e di chiedere giustizia. Probabilmente altri dipendenti hanno più paura di uscire allo scoperto. Ancora più grave però ci sono altre due cose che non si possono trascurare. La prima è che a questa persona era stato dato il CUD e nel CUD era stato invece messo che era tutto regolare e che i contributi erano stati versati. Quindi l'Inps mi ha anche dato un CUD falso. L'altra è necessario ricordare a tutti i cittadini che forse non lo sanno che era ruolo e compito della Toscana a chiedere la regolarità contributiva a Uncem prima di versargli i contributi. Il fatto è che non l'abbia fatto, che non abbia controllato la Regione Toscana e infranto la Regge. Quindi l'illecito penale non è solo di Uncem ma anche della Regione Toscana, dei suoi dirigenti e dell'assessore. Per questo cosa chiedete adesso? Noi chiediamo che chi fa degli illeciti penali sia perseguito penalmente. Spero che su questo lavori la Procura. Come istituzioni, politicamente noi continuiamo a chiedere con forza che ci sia dato accesso ai bilanci perché a questo punto è evidente che venivano dati dei soldi pubblici per pagare dei contributi che non venivano pagati. Dove sono finiti questi soldi? È nostro dovere verificare ogni virgola di questi bilanci per sapere chi si è appropriato di fondi, come sono stati spesi dei fondi diversamente da quelle che erano le leggi vigenti. Quindi qualcuno ha preso dei soldi pubblici, ci dovevano fare delle cose e ne hanno fatte altre. Vogliamo sapere cosa ci hanno fatto. Il Partito Democratico adesso propone il superamento di Unce. Certo, vogliono nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma anche di altre associazioni. Sì, certo, loro pensano, perché non potevano, ovviamente la mescolano in una riforma maggiore, ma il problema è che loro vogliono chiudere questa vicenda facendo una sorta di sanatoria, dicendo chiudiamo Unce, ma Giurlani lo promuoviamo vicepresidente di Anci Toscana, mettiamo una sanatoria su tutti questi illeciti perché abbiamo chiuso l'ente. Noi invece andremo fino in fondo e chi ha abusato del denaro pubblico in modo illegittimo deve pagarne personalmente tutte le conseguenze. Grazie. Grazie. Grazie.